E' cominciato sabato a Torino in Piazza Castello il digiuno pubblico a staffetta organizzato dal Centro Sereno Regis. Ascoltateli, è l'imperativo che sintetizza la richiesta di aprire una discussione pubblica sul controverso progetto per la linea ad alta velocità in Val di Susa, la TAV, che tenga conto non solo dei Valsusini ma di tutti gli esperti che hanno formulato critiche al progetto portando nel dibattito cifre e dati tecnico-scientifici. In Piazza Castello è stata montata una tenda nella quale si digiuna a turno con turni di 24, 48, 72 ore. Gli attivisti del Centro Sereno Regis stanno mettendo in atto il digiuno come forma di lotta non violenta e esperienza di approfondimento individuale e collettivo. La stessa iniziativa di digiuno pubblico si svolgerà contemporaneamente in altre città italiane. Il Movimento Notava ha molte ragioni, ha scritto un libretto parlando di 150 ragioni, tecniche tutte documentate, eccetera. Dall'altra parte si risponde solo con slogan, con la modernità uguale velocità, con il corridoio, quando invece le infrastrutture ci sono, sono già state potenziate e il traffico, soprattutto quello merci nei confronti della Francia, è in netta diminuzione da alcuni anni. e sembra che queste ragioni non vengano ascoltate, non c'è un vero contraddittorio tecnico. Il TAV è un termine improprio perché in realtà è un TAC, cioè un treno ad alta capacità perché servirà per le merci, quindi a meno di non diventare un tonno in scatola, la gente comune non potrà mai utilizzarlo perché poi non sappiamo neanche i costi quali sono. Allora si ricorre a delle forme estreme, il movimento non violento del Sereno Regis che è favorevole al NOTAV, ufficialmente lo sappiamo, ha lanciato la proposta del digiuno gandiano, cioè la gente che invece di fare offesa ad altri fa un po' di danno a se stesso e il digiuno dovrebbe servire anche a ragionare, a meditare, eccetera. Io spero di ottenere come tutti finalmente un confronto su dati tecnici. Il fatto che questo non sia mai avvenuto finora la dice lunga sulle menzogne che finora ci raccontano i politici e i tecnici del sì, poiché non l'hanno mai accettato, ritengo appunto che anche la lettera dei 360 docenti universitari sono rimasti inascoltati, ecco mi sembra tra l'altro anche un grave sopruso.